Ciao ragazze! Allora, ho il video hall, praticamente con precisione da casa, non so se lo conoscete. E vi faccio vedere subito quello che ci sta ad ora. Come prima cosa ho acquistato questo amberello che praticamente si è attaccata e si illumina e l'ho pagato 12,99 euro. Poi la mia figlia prende altre cose. Poi ho preso questo amberello sempre di Natale di legno da mettere nella stanzetta della bambina e l'ho pagato 5,49 euro. Amore, facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Poi abbiamo preso questa mela che è un soprammobile, però dorata perché la devo mettere praticamente sulla tavola per fare 100 euro da Natalizia. Scusate, mamma mia figlia mi interrompe, è tipo questo. Aspetta mamma, facciamo vedere cosa abbiamo preso. Poi l'ho pagato 4,99 euro. Poi abbiamo preso questo alberello, 4,99 euro da prendere fuori al posto della classica Ghirlanda. Ed è troppo bellino, tutto brillantinato, con le pigne e le stelline. E' 4,99 euro. Poi mio marito ha preso questa stella di Natale. Quanto l'ho pagato? Quanto l'ho pagato, amore? 4,99 euro. 4,99 euro. C'è anche la candelina dentro sempre nera. 79 centesimi. 79 centesimi. Poi l'ho preso sempre per Natale, 4,99 euro. Questa renna. Questa renna. Questa renna nera, troppo carina, sempre Natalizia. 4,99 euro. Vieni mamma, fai vedere. Non ti piace? Poi abbiamo comprato le lucine da mettere nella camera della bambina, 5,99. Sono tutte palline fatte, praticamente tipo con il cotone. Vabbè, poi magari vi faccio vedere bene. Mia sta smontando casa, scusate. 5,99 sono delle palline da mettere sempre sotto la menzolina nella stanza della bambina. Poi non vediamo cosa ha fatto perché le mie figlie mi hanno rotto. Danno una candela, per fortuna. Quella che va nella stellina. Michi, non toccare niente. Poi ho preso questo runner, 3,99, da mettere sempre sulla tavola in cucina per fare il centro tavola Natalezia. E anche questo qua, sempre da mettere come centro tavola. 3,99. Bellissimo, dorato. Poi... Poi... Poi ho preso due candele di queste. Guardiamo quanto le ho pagate. Sicuro 2,99, non trovo lo scontrino. Gli ho presi due. Poi, questa altra cosa, abbiamo preso questo albrello nero. 5,99, sempre da mettere al centro tavola. Questo è bellissimo, molto particolare. Poi ho preso questo blade, che già abbiamo visto Giovanni. Infatti si vede il casino, scusate, ma devo cambiare la coperta. Ma sono a mettere perché mia figlia mi rovina il piano. Pagato 4,99. Alto sverello, se si illumina, pagato 3,99. Bianco, carino, da mettere qui. Pagato 4,99. Pagato 4,99. Pagato 4,99. Pagato 4,99. Pagato 4,99. Ragazzi, scusate la fretta, questo video è finito. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti